Siamo con Valeria Caracuta, parlaci un po' della tua esperienza in azzurro. Allora, è stata un'esperienza sicuramente bellissima, vestire la maglia azzurra è sempre un'emozione unica, quindi sono molto contenta di aver passato questi mesi in maglia azzurra e sicuramente lavorerò per avere altre occasioni, però posso dire che sicuramente è stata un'estate molto positiva sotto questo aspetto. Hai partecipato ai giochi olimpici di Baku, raccontaci un po' com'era l'atmosfera, il villaggio. È stata una manifestazione organizzata molto bene, un ambiente veramente molto bello, molto organizzato nei minimi dettagli. La città è bellissima, ormai Baku si può considerare una metropoli, quindi sicuramente è stata un'esperienza stupenda e sono molto contenta di averla fatta. Estate, beach volley, cominci il legavoli summer tour. Sì, tra un po' comincerò il legavoli summer tour, sono molto contenta di fare questa esperienza perché oltre alla pallavolo c'è anche tanto divertimento e sarà sicuramente molto entusiasmante giocare a pallavolo sulle spiagge, quindi non vedo l'ora di cominciare e vi aspetto in tanti. Ciao! Ciao! Grazie.